Apritemi le porte della giustizia. Così ieri mattina il parroco di Cassano Magnago, Don Andrea Ferrarotti, ha celebrato davanti a centinaia di fedeli il rito che ha riaperto la chiesa di San Giulio dopo sei mesi di restauro per la posa di un nuovo pavimento in marmo, la predisposizione di un moderno impianto di riscaldamento e l'installazione di una rinnovata illuminazione. La vera porta è Cristo, ha ricordato il sacerdote. Gli uomini in questa chiesa potranno recuperare la loro alleanza con lui. Il cantiere chiuso ieri ha comportato uno sforzo economico importante, reso possibile da alcune donazioni ma per il quale serve ancora sostegno. La scelta è stata quella di portare avanti l'intervento, nonostante la difficoltà legata alla pandemia, per dare lavoro a oltre 50 persone tra operai e progettisti. Un ricordo ieri è andato anche al vescovo Monsignor Marco Ferrari, cassanese d'adozione, scomparso il mese scorso. Donna Andrea ne ha ricordato l'umorismo citando alla fine della messa un messaggio in dialetto scritto in mattinata sui social da un parrocchiano. Mkp che le festa ma basta questi campani.